Action! I'd like to show you the water, holy water. Here it is. It has a little bit of holy algae in it. Ferma, c'è scritto di leggere ogni giorno per protezione. Per uno che lo fa, un po' svelto questo tipo di tour. Facciamo vedere, ma la sinistra c'è la libretta? No, non si apre. Guardate tu. That's the ocean. Isn't this a really reassuring thing to eat? Have a look around, have a look around. See how reassuring it is. Look around, look around, look around. Fai vedere il pieno dentro? Per le comodità più intime c'è il pieno dentro le sedie. Ecco, il caso dove devi passare la notte è qui? Dice, oh, whoops, it's block. Are we even moving? Sì, è abbastanza nettamente. Penso che perché c'è il vento. Allora, apprezzate tutti il solito cable car in tutta l'Irlanda. Ah, ah, già, 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 volevo dirci una cosa, in caso che sei un po' morto, spiegati nel interno. Non toccare. C'è sempre un microphone. Isn't that reassuring? Come vedi, onde c'è un pochettino, però non c'è niente di aver paura. Ok. By the way. Così il nostro, six people, così il nostro partenza di Jersey Island guarda la palazza nelizio. Non abbiamo neanche preso l'acqua, abbiamo corso con dei passi per evitarla. Già fortunati, eh? Però ho paura che con il break di questo cable car arriverà prima. Ok, di ciao. 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 Ciao, e cheesos. Grazie noc. Grazie.